Ciao ragazzi, sono Cielo Fizzis, oggi siamo qui con Multicraft. Stiamo ancora decidendo, eh? Noi! Torneremo là! Ok, adesso trovo le coordinate e ci rivediamo. Ah, l'attacco! Ci metteremo un bel po'. Oh, che ospiterina. Si sono persi tutti, siamo rimasti solo noi? Due? Due? Allora, andate tutti, adesso tutti quelli che stanno giocando in questo momento a Minecraft stanno andando di là. Non credo. Siamo due persone, senza niente, che stanno morendo di fame. Dobbiamo uccidere un tizio con l'armatura completa di diamante magica. Va bene. Allora, Kachaguse è partito. È già laggiù in fondo. Dici che ci riesce a uscire? Dici che sopravvive? Sì. Ok, siamo tornati a casa. Sto per morire di farlo, non so in dettaglio. Che distruzione. Ma chi se ne deve essere tornati a casa? Semplicemente a casa. Ci riservirà il ferro. Tutte quelle cose. Non voglio neanche vedere come saranno ridotte le nostre case. Se ci saranno ancora le nostre case. Tanto c'è un titolo che continua a dire che chi lo aiuta è da diamanti. C'è un tizio lì. Dice che è dei nostri. Ah, è Kachaguse, mischiola. Certo che è dei nostri. Uh, speriamo che questo qui, tipo, che Kachaguse abbia, tipo, nelle ceste un casino di ferro. Non lo so, io... Gli contierei. No! Oh mio Dio! Come cavolo! Poi mi chiedo come caspita... Oltre che c'è del ferro... Come caspita hanno fatto a distruggere tutto? Ma ci vuole anche un po' di forza per fare tutta sta roba qui. Per distruggere tutte le case che noi abbiamo costruito in una settimana. Loro ci hanno messo neanche dieci minuti. Tutto distrutto. Non ci sono più le ceste, niente. Ecco, ora c'è un tizio. Ora mi uccide. Su! Uccidimi! Ecco. Felice ora? Sei quello che volevi? L'hai ottenuto. Ah, noi ci siamo anche ricontrati comunque. Fermatevi un attimo! Non mi ascoltano sti qui, caspita però. Non possiamo sconfiggere un tizio con un'armatura totalmente di diamante magica. Volete capirlo? E riaccomi per la 124esima volta a castello. Adesso ho capito perché il castello è così distrutto. I griffier, ragazzi. Questo server è strappieno di griffier. Come quei due o tre tizi che ci stanno continuando a massacrare adesso. Hanno fatto la stessa cosa a questo castello enorme. Mi arrivano messaggi. Hanno fatto la stessa cosa al nostro rifugio. Hanno fatto la stessa cosa a un altro castello che ho visto io senza fare video. E continueranno a fare la stessa cosa. Almeno che non ci spostiamo da qualche altra parte. Ora che vedo un casino di cose lì io. Una strega ha ucciso Kachagus. Una strega? No, sto qui non si è abbassato. Devi abbassarti. Se no ti vedo. Noi ti uccideranno per la 124esima volta. Tanto non è che possiamo fare tanto. Chi è? Scappa! Ok, no. Superboy sarebbe con noi, giusto? Qua ci sono un casino di persone, io non capisco che siano. Sì, animali. Lo spawn di mostri. Tutto distrutto. Tutto tolotto. Grazie pure al creeper e il cactus adesso. Fantastico. Ok, non chiedetemi cosa sto facendo. Perché non lo so neanche io. Chi è? E' un tizio. Ciao, eh. Ok, vai. Ecco, quello lì dovrebbe essere il capo dei creeper. Spaccate le case e tutto il resto, sì. Ma io non ci capisco nulla perché stai qui adesso. Non stanno facendo nulla. C'è nel tutto tutto. Prima c'è uno star massacrato. Adesso invece non stanno facendo niente. C'è un pollo lì comunque. L'unico superstite. Ma quando poi non c'è più nessuno qua. Chi c'è lì? Superboy. Che ci sta con noi, giusto? Non so. Tu dove? Caspita vai. Superboy io non so con chi sta. Poi però comunque è stata una cosa intelligentissima mettere la lava in casa, eh. Ah, poi ho preso delle fornace. Mamma mia. C'è un tizio, c'è un altro tizio e un altro tizio ancora. Quanti sono? Ah, quello è Mirko. Mirko che sta passando parallelamente a me. Vattene via, maialino. Maiale è cattivo. Maiale è cattivo. No. Aiuto. Biscotto. No, biscotto. No. Biscotto. Yeah. Biscotto all'attacco. Biscotto all'attacco. No. Bisco... Ok, tentiamo un'impresa disperata, ragazzi. Stiamo cercando di fare una cosa incredibile. Però a me sta seguendo solo l'uomo freccia, eh. Venite. Un attimo. Oh. Un attimo. Allora, ragazzi. Intanto che loro stanno facendo qualcosa, a me mi hanno tenuto via geniale. Stiamo andando alle coordinate... X108... X108... Z1382. Credo che voi non sappiate minimamente quali sono. Sono le coordinate del mio primo rifugio che ho avuto in questo server. Il primo rifugio che ho fatto con Master Andre. Spero che ci sia ancora. E vado a vedere. Eccoci, ragazzi. Credo che nessuno di voi ve lo ricordi... Se lo ricordi. Quel rifugio lì. Dopo un casino di tempo... Ci siamo ritornati. Eh, dato che loro stanno parlando. Eccoci qua. Era questo. No, non era questo. Era più sotto. No, no. Era questo. È stata una cretinata siccome non c'è nulla. Mi sono fatto male in ritardo, però. Ecco. Fantastico. Oh. Perché? 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 Ehi! Perché tutto questo? Vabbè, almeno ritorno. Perché? Sto maledetto che mi ha ucciso. Quest'altro maledetto che mi ha ucciso. E quell'altro ancora. Questi tre maledetti che mi hanno ucciso tante volte. Stupido. E poi non si entra così nel pavimento. Scusa, eh. Ho capito come hanno fatto a trovarci. Cinque secondi fa, mentre voi non registravate... Mentre io non stavo registrando... Uno disse qua, si è teletrasportato da me. Se qua si possono teletrasportare, usano i trucchi. Ci sta ridando il cibo. Sto maledetto che ci ha ucciso, ci sta ridando il cibo! Ci sta dando dei pollicotti. Proprio grazie mille. Ok, ragazzi. Electric fa un server. E noi ci vediamo dopo. Ok, ragazzi. Questo era Multicraft. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Nel quale spero di essere nel server di Electric. di Electric. E noi ci vediamo nel prossimo episodio.